Con Davide Bramati un bilancio della Tireno Adriatico della Omega Pharmacos Step? Mi fai una bella domanda, il bilancio dell'Omega Pharmacos Step, questa Tireno non è stata una gara delle migliori, cerchiamo adesso di guardare avanti, già da oggi vediamo oggi la Tireno non è finita, ho 2, 3, 8 micronome, vediamo di cercare di fare il risultato oggi. Abbiamo visto in queste ultime settimane un Tom Bonen tornato ai livelli eccellenti, sicuramente sarà lui la vostra prima punta per la Sanremo? Sì, Tom, mi hanno portato a vincere 5 gare in un'ottima condizione, sicuramente sabato sarà uno dei protagonisti, ci rivolgiamo. Avete pensato anche a qualche soluzione alternativa per evitare lo sprint? Partiamo con una squadra ben agguerrita, abbiamo dei corridori che se ci saranno delle azioni tra ci pressa appoggio sicuramente cercheremo di scrivere qualche nome importante della nostra squadra. Abbiamo visto un Cavendisci in ottima forma, poi anche Sagan si è fatto vedere, Freire non si è nascosto, saranno loro i principali favoriti o c'è anche qualche altro nome? Questi nomi che sicuramente tu hai accettato io penso che sicuramente c'è da aggiungere anche a Borsonaghen, ha dimostrato a tanto giorno di vincere, dopo una tappa lunga, in un'ottima condizione sicuramente anche lui sarà uno dei favoriti. Grazie.